Musica Bene a tutti ragazzi, qui Jeff sta parlando, oggi sono qua con un nuovo video su Destiny Oggi andremo a vedere un'altra taglia di Petra Venge, quella dei Vandali Spezza Regine Nella quale per completarla dovremo uccidere dei Vandali maggiori con la vita gialla che si trovano nei tizioni su Venere Però come ci si arriva ai tizioni? Bene, come prima cosa dall'orbita andate su Venere e una volta sponati dovrete andare verso sinistra E raggiungere le caverne delle braci Fatto ciò andate sempre dritto, incontrerò la salita che vi porterà verso sinistra, verso diciamo una zona dove ci sarà alla fine di essa un capitano Quindi incontrato il capitano dovrete svoltare a destra e entrare dentro una specie di cunicolo, dentro una specie di caverna che vi porterà alla tana dell'inverno Continuate sempre dritto, schippate i nemici oppure uccideteli, fate come volete Una volta che avrete continuato dritto e avrete fatto tutta la salita in alto a destra, vi ritroverete nei tizioni Quindi fatto ciò sarà ancora una piccola zona di caverna, uscite fuori e davanti a voi vedete un'enorme nave spaziale, ossia un Kel dei Caduti Voi non dovrete fare altro che scendere dalle rocce in cui vi trovate, arrivare giù e poi entrare dentro la nave dei Caduti Fatto ciò basta svoltare a sinistra e davanti a voi noterete due vandali Insieme ovviamente a qualche altro scagnozzo o reglietto che stanno là intorno Quindi una volta averli uccisi con Pedra Eterra Taglia e dovrete andare sull'atollo e parlare con Pedra Bench per riscattare la ricompensa Quindi ragazzi questo video finisce qua e spero che vi sia piaciuto Lasciate un like e un commento qua sotto, iscrivetevi a casa quello che vi è fatto Noi ci sentiamo prossimamente con tanti nuovi video, vi ricordo che oggi volete riuscire a un video spettacolare Ve lo metto qua sopra nelle schede e qua sotto nella descrizione e non ve lo perdete perché è davvero fatta ieri della risata spettacolare Ci sentiamo prossimamente, bella! Noi ci sentiamo prossimamente, bella!